Sì Lucia, eccoci prontissimi a portarci davanti al corpo di Sant'Eustochia e lo facciamo con il cappellano di questo monastero di Montevergine, il Monsignor Pietro Aliquò. Monsignore, dicevo, ci portiamo davanti al corpo e tra poco proveremo anche ad arrivare lì su, ma prima vogliamo capire come questo corpo che svetta sopra l'altare maggiore protegge non solo le sue sorelle ma questa città. Intanto ho il piacere di dirvi che questa è la chiesa dedicata a Sant'Eustochia Smeralda e che è conosciuta questa chiesa dalla gente come la chiesa di Sant'Eustochia. È vero, la chiesa ruota intorno all'altare e poi ha il suo vertice ascensionale nell'incontro con il corpo incorrotto di Sant'Eustochia Smeralda ed è una chiesa che invita a pensarsi in cammino e a guardare verso l'alto. Noi ci stiamo spostando proprio per portarci davanti al corpo di Sant'Eustochia e per vedere come questo corpo ancora oggi ci parli, ma ci dica in pochi secondi il legame tra Messina e Sant'Eustochia. Lei soffriva gli eventi della città con particolare riferimento a quelli dolorosi. Monsignore, siamo arrivati proprio davanti al corpo di Sant'Eustochia e questo ci permette di guardarla più da vicino e di vedere come sia un corpo che ancora oggi ci parla nella sua posizione in piedi, ma anche in tanti altri dettagli. Ecco, la posizione è in piedi. Ricordo che Papa Giovanni Paolo II la chiamava la Santa, la Santa in piedi, ad indicare quasi la vita di grazia, la vita secondo lo spirito è in piedi e indica il cielo. Come come l'emissione di sangue dal naso e come questo gesto di benedizione. In pratica lei si congeda dalle sue consorelle e dai suoi devoti con un gesto di benedizione. È la benedizione che la madre dà alle sue figlie. La Santa continua a stare tra le sue consorelle, continua a vivere la vita della città con la presenza del suo corpo che è incorrotto. Io la ringrazio Monsignore perché ecco ci ha fatto capire come un corpo incorrotto, spesso ne vediamo di Santi, possa ancora essere una presenza viva all'interno di una città così grande come Vessina e accompagnarla nella vita di tutti i giorni. La ringrazio infinitamente. Lucia da qui da Messina è tutto. A te la linea. Antonella, noi ringraziamo tutti voi. A te la linea.